Musica Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo specialissimo video Io sono Xyuder e oggi ragazzi lo sapete c'è stato l'aggiornamento pochissime ore fa La patch 6.21 6.22 che ha visto introdurre nei file di gioco un sacco di novità Per quello che riguarda gameplay, nuove modalità, skin e ovviamente armi ragazzi Non voglio soffermarmi a farvi vedere troppe cose Ma oggi voglio vedere insieme a voi il gameplay del nuovo fucile pesante Che anche io non ho ancora provato quindi sarà un'esperienza, una reaction insieme E vi farò vedere la skin segreta di questa season ragazzi Quindi mi raccomando se vi piacciono i miei video ragazzi non dimenticatevi di lasciare un bel pollicione in su Ed iscrivervi al canale ovviamente attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati Su tutto quello che riguarda Fortnite Quindi ragazzi dietro quella porta c'è il fucile Lo andiamo a prendere e lo proviamo insieme Vediamo un pochettino Fucile d'assalto pesante Penso che sia in modalità rara ed epica Credo Proviamo a vederlo un po' più da vicino Molto carino, molto carino Lo recuperiamo e direi che vale la pena provarlo ce l'ha un tizio la azzardiamo la azzardiamo raga potrei non farcela e ve lo dico attenzione ci deve essere un tizio qui lui non mi ha visto io l'ho visto porca come spara strano come spara strano proviamo di nuovo aspetta eh se io avessi una mira migliore è un po' strano questo fucile quanto momento che arriva un altro guarda che c'è uno che sta arrivando c'è un tipo dov'è? dov'è andato? no vieni qua vieni qua che vigliacco va beh l'abbiamo visto ragazzi non male molto molto figo in questa versione ragazzi nella modalità nella versione rara 165 il dps 44 i danni al corpo 375 la cadenza di tiro 25 colpi nel caricatore e 2,8 secondi per quello che riguarda invece ragazzi il tempo di ricarica davvero davvero notevole ma prima di lasciarti ragazzi non l'ho chillato col fucile fa niente l'ho chillato col points è uguale prima di lasciarvi ragazzi però volevo anche farvi vedere finalmente la skin segreta che sta bazinga dai che sto guardando le puntate di big bang theory in questo periodo come si dice volevo farvi vedere la skin segreta che è stata recuperata ragazzi oh è tornato l'rpg cioè mi dispiace volevo il mio coso ma è tornato mi sarebbe piaciuto di più avere anche il è tornato però l'rpg minchia quanta roba che c'è qua andiamocene la skin segreta della settimana numero 7 ragazzi siete pronti? mi tengo mi tengo mi tengo 3 2 1 Shambadargal guardala qua prot skin segreta della season numero 7 si chiama AIM se non ricordo male che vorrebbe dire ovviamente intelligenza artificiale come vedete mi fa cagher ma l'avevo detto raga che non era niente dico non mi piace raga io non sono un pazzo per i robot cioè però questa come al solito lo sappiamo ci sono sempre sette settimane di attesa prima di poter vedere le skin poi rimanere delusi però questo va bene diciamo che non è non è brutta ragazzi come vedete la testa di un robot ovviamente il corpo non ce l'ha e va a chiudersi poi nella versione completa con un paio di pantaloni rossi e ovviamente delle gambe e dei piedi da robot questa nuova skin che verrà sbloccata dopo domani ragazzi quindi con l'arrivo delle sfide del completamento della settimana numero 7 avrà incorredato anche un piccone e un backpack ragazzi eccoli qua quindi vabbè una skin gratis sempre una skin gratis io ritengo sempre che potessero fare qualcosa di meglio però giustamente dici ti regalano una skin che cosa pretendi ci può anche stare come discorso insomma ragazzi sappiamo anche che oltre alle skin gratis con questo nuovo update arriva anche tu mi prendo il fuciliozzo leggendariozzo e diamoci lo shield un secondo sappiamo anche ragazzi che saranno in arrivo le nuovissime skin del rugby quelle fatte per l'NFL adesso io non credo che siano siano per il Super Bowl però deve essere per forse per il campionato NFL insomma sapete che gli americani sono strippati per il rugby e allora gli hanno fatto delle skin le stiamo vedendo in questo momento ragazzi ce ne sono tantissime varianti insomma un po' come per i calciatori ragazzi avremo le skin che saranno di rarità epica quindi 1500 V-Bucks per ogni skin ma avremo anche ragazzi gli arbitri quindi due arbitri quello maschile quello femminile che invece avranno una rarità rara non comune quindi 800 V-Bucks per gli arbitri ragazzi quindi che dire anche per questo update ragazzi le novità sono davvero tante ci sono anche delle nuove skin ma aspetto domani a farvelo vedere se avete voglia ragazzi quasi quasi ci finiamo la partita siamo rimasti in 12 raga se ce la giochiamo un pochettino rush vediamo di portarcela a casa non lo so per il momento comunque io vi ringrazio lo stesso tantissimo per avere guardato questo video zinga io vi ringrazio tantissimo ragazzi per avere guardato questo video se vi è piaciuto chi è bel like se vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale io la vado a chiudere raga siamo in 9 siamo in 9 attenzione è finito l'evento di Halloween raga è finito ho capito dove mi spara non ho capito dov'è dov'è siamo in 7 continuo a non capire dov'è continuo a non capire dov'è vado a chiudermi in safe dov'è tranquillamente essere là sopra lasciamo perdere andiamocene in safe facciamo un giro largo attenzione siamo rimasti in 7 raga attenzione così c'è una già un altro un altro fucile pesante non ha senso farsi sgamare non ho legna aspetta che farmo un pelo di legna 17 secondi 200 di legna avviciniamoci avviciniamoci attenzione un altro fucile pesante Avanziamo, avanziamo, avanziamo Siamo in cinque Attenzione Bravo Va bene ragazzi, io mi fermo qua Vi ringrazio per aver guardato il video Noi ci vediamo prestissimo Ciao